Il provvedimento approvato ieri dal Consiglio regionale nella parte in cui concede facoltà agli stabilimenti balneari di poter predisporre strutture protettive è questione già discussa nell'ambito di revisione generale del piano demaniale marittimo regionale operazione che deve peraltro tener conto anche degli intervenuti decreti attuativi del cosiddetto federalismo demaniale e quanto affermato dall'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio che ricorda già nell'ordinanza balneare 2010 si teneva in parte conto della necessità di protezione degli stabilimenti Secondo Di Dalmazio tale condivisa esigenza di tutela deve trovare un'adeguata regolamentazione al fine di essere coniugata con la tutela dell'interesse pubblico, del rispetto ambientale, il decoro estetico del nostro literale la libera fruibilità e accessibilità delle spiagge e salvaguardia della cosiddetta vista mare Di Dalmazio pertanto avvierà un immediato confronto con l'Anci, con le associazioni di categoria e con le maggiori associazioni ambientaliste, finalizzato ad adottare quanto prima tutti gli interventi opportuni